non sono io il cibo no tu sei quella che lo prepara cosa ci prepara oggi la nostra master chef questa donna signori che io ho personalmente sposato uno dei motivi per cui l'ho sposata è proprio per i grandi magnifici piatti che prepara ok a parte questi piccoli dettagli che non trascurabili da cui abbiamo preparato la frigidrice lì abbiamo preparato una padella sganghi sganghi qui abbiamo preparato un pochino di cose e qua sta preparando quella che cos'è la salsina per la pizza l'hamburger pizza ma vi rendete conto potete crederci sono ancora in stato di shock si ragazzi probabilmente io questa sera manzi meno noi questa sera mangeremo un hamburger di pizza stiamo mangiando un pochino di ingolpimento stiamo mangiando un pochino di ingolpimento stiamo mangiando un pochino di ingolpimento nice tipo parmigianino no? guarda qua hai da dove esce l'hamburger questa ovviamente è la salsa quella che è tipo la salsa di pomodoro quando si mette sulla pizza sull'impasto della pizza qua ci mettiamo la salsa big mac no non è la salsa big mac è un'altra è un'altra? ok c'è proprio per simulare la salsa mettiamola così poi vabbè ci si metteranno i funghi e cipolla caramellati cioè guarda te guarda te guarda il crudo cotto che diventa tipo bacon e le patatine patatine sulla pizza che pizza è senza le patatine? eh guarda come la chiamiamo ambur pizza? l'ambur pizza l'ammupizza 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 esatto te la mangi te la mangi e questa sera ragazzi come avete potuto ben vedere constatare mangerò l'ammupizza ci vedremo a poco a poco e poi successivamente non la vedrete più se la sarà finita esatto dillo come sono mangiometro no non è vero che sei mangione semplicemente le mie cose te le finisci vengo il tempo che le metto a tavola ci vediamo più tardi a tavola ehi dorian b se stai guardando questo video come detto che ti sei mangiato 400 grammi tu da solo fai vedere amore il bambinello 500 grammi ma non da solo ho fama anch'io poi facciamo una mangiata insieme vediamo chi resiste quando vicini sempre si infatti tanto siamo vicini mi raccomando chi ti aspetta cioè guardate voilà questa è la base e questa donna con quelle sue manine sante l'ha pesa a scaffoni ma ah si la stanno friggendo le patatine le patatine che friggono piastra accesa per il bacon che è stato fatto eccolo qua infatti eccola l'ha aggiunta e tu sei la donna che ha preso a schiaffe questo si però vedi come appello liscio 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 secondo me mi avrebbe ammazzato non ci sta nella pentola raga così sarei sincero un pochino però è tutta un'illusione ottica in realtà non ci sta nella pentola le patatine salate e saltate salsa raga sta diventando un qualcosa di evocale raga guardate che roba volete mangiare bene? fate come me sposatevi una siciliana guardate fate come me sposatevi una catanese ecco una catanese e questo ragazzi è il prodotto finito ora ci dobbiamo aggiungere le patatine di sopra ma se le metti ora cade esatto se metti ora le patatine cade 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 questo ragazzi è tutto quello che si può aspettare una delle tante cose che ci si può aspettare della cucina dei trashomanti cucina trashomantica signori una garanzia scrivetemi anche nei commenti se volete vedere altri piatti e altre ricette non cucinerò sempre io io odio cucinare si si è vero è vero lei odia cucinare però quando si mette sforna certi piatti guardate signori guardate cuncici e patatine cuncici e patatine ok prendo una patata buona patata ecco la e si fa caldo e mangiamo questa roba tutto da un pezzo sempre questo quello che vedete è l'ambu pizza al prossimo video alla prossima ricetta ciao a tutti e scrivetemi nei commenti quanto state a rosicare mentre io mi godo sto piatto ma che ve lo dico a fare che ve lo dico a fare un appetito ciao 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 ciao